via coluccio salutati appartamento all'ultimo piano con ascensore appena terminato ed arredato quindi nuovo di zecca entriamo porta blindata in quella porta lì in fondo c'è il bagno che vediamo dopo e qui c'è questa splendida zona giorno con la cucina nuova appena installata grande termoredo da notare i soffitti che sono altissimi qui abbiamo questo gradevole terrazzino affacciato su una porta interna ampio sufficiente per mangiare caldaia e termo autonomo abbiamo anche l'aria condizionata ecco lo scritto proseguiamo ed andiamo nella zona notte che ha sempre dei soffitti altissimi c'è questo soppalco in aredo con l'aria condizionata ed eventualmente anche la possibilità di mettere il letto sia sotto che sopra un attimino da gestire veniamo avanti e abbiamo il il bagno grande lavatrice nuova completo di tutto